Cari fratelli, permettetemi di ringraziare brevemente tutti quanti per questa presenza a Kando a me, a pochi giorni del mio ritorno in India a Kerala. Sono venuto in Italia, la vostra bellissima terra paderno d'Ugnano come un studente. Adesso rientro in India come un vostro figlio missionario per il servizio pastorale sanitario. Ringrazio in particolare Sua Eminenza il Cardinale Comastri che ha accolto l'invito ad essere presente in questa giornata. La sua presenza è un grande onore per me e per tutta la nostra comunità e parlo tesoro delle sue parole, della sua umiltà, del suo sorriso e della sua testimonianza. Ricorderò in particolare l'avolienza che ha riservato recentemente a Roma a me e ad alcuni miei parenti e amici. Ringrazio il nostro carissimo paraco Don Giacomo per il suo abeto paterno e Don Giuseppe, Don Alberto e gli altri sacerdoti della nostra comunità. Ringrazio le suore e tutta la comunità. Ringrazio tutti i miei amici e amici della nostra comunità. Mi riserverò l'ultima domenica della mia presenza il prossimo 20 febbraio per esprimere i ringraziamenti più dettagliati e affettuosi. Perché devo ringraziare tante persone, tante famiglie nella nostra comunità. Ringrazio le autorità civili e tutti i gruppi e associazioni che ho incontrato in due anni. Un saluto speciale a tutti i malati che ogni settimana ho visitato negli ospitali e nelle loro case. Anche nelle mie pellegrinacce a Judas due volte con unità, sì. Vi ricorderò ogni giorno all'antare. Vi auguro ogni bene nel Signore e vi aspetto tutti in Kerala, in India. Grazie, grazie a tutti.